Ben trovati, ben trovati a tutti voi, torna anche questo giovedì up dentro la politica, il nostro appuntamento fisso con cui incontriamo i protagonisti della politica regionale. E questa sera il nostro grandito ospite è Francesco De Angelis, europarlamentare PD e membro del direttivo nazionale del partito. Salve. Salve, buonasera. Allora, partiamo subito. Prima di cominciare con la trasmissione naturalmente vi do tutte le specifiche per entrare in contatto con noi. Il nostro account Twitter, chiocciolina app Teleuniverso, potete scrivere con l'hashtag app2 oppure scriverci e basta, lo leggiamo comunque. La nostra mail app chiocciolateleuniverso.it, il numero di telefono soprattutto per entrare in diretta con il nostro ospite 0776 72 8050. È la prima volta che lei è ospite qui. Le ho spiegato un po' prima che impressione si è fatto di questa trasmissione, di questa nostra app. Ma per me è l'esordio, quindi devo dire, ma se il buongiorno si vede dal mattino, insomma, penso, penso bene. Mi pare di poter dire, è una trasmissione giovane, no? E quindi guarda al futuro, questo è molto importante perché bisogna pensare molto ai giovani e quindi è pensata bene. Complimenti a te. Grazie, grazie. Allora, partiamo subito. L'onorevole diceva che dobbiamo guardare al futuro, noi invece come primo atto guardiamo sempre al passato, alla settimana precedente, alla settimana che ci ha preceduto. Andiamo a vedere le notizie più importanti di questa settimana con la nostra agenda. Grazie a tutti. L'incontro fa aprire crepe all'interno del PD con i Cuperliani che storcono il naso, lo stesso Gianni Cuperlo che si dimette da presidente del partito ed in mezzo però quello stesso partito che dà il via libera alla bozza di riforma elettorale. La nuova legge si chiamerà Italicum, proporzionale con doppio turno ma senza preferenze e questo non piace a tutti. Ad Isola dell'Iri intanto a non piacere più è la maggioranza che guida la città. Venerdì mattina il sindaco Luciano Duro viene fatto decadere da 11 consiglieri su 20, quella stessa mattina viene riaperto il casello autostradale di Ferentino che resterà off limit comunque per i mezzi pesanti. Italicum arriva in commissione, anche Alfano dice sì. Renzi rincara la dose verso il capo del nuovo centrodestra e gli dice vuole preferenze, convinci Berlusconi. Polemiche in ciociaria sull'arrivo del ministro Lorenzin, i sindaci di Cassino e da Latri bollano l'arrivo della rappresentante del governo come una passarella elettorale e chiedono un sopralluogo anche nei loro ospedali. Risponde Alfredo Pallone che dice i sindaci di Sorra e Frosinone mi hanno chiesto di invitarla, potevate farlo anche voi. A Roma viene scoperto anche se da scoprire c'è rimasto davvero poco, un imponente giro di riciclaggio della Camorra in alcuni locali centralissimi della capitale, 90 le persone finite in manette, un imprenditore si getta dal balcone all'arrivo della polizia, beni sequestrati per 250 milioni di euro. Il manager ASL a Frosinone non arriva più, almeno per adesso, bloccata la Mastrobuono dopo i dubbi sollevati da Santori della Destra. La regione rassicura tutti sul centro trasfusionale che a Frosinone resterà attivo, qualcuno deve aver capito male. Ad onore del vero c'è da dire che in serata il presidente Zingaretti ha dato il via libera all'arrivo della dottoressa Mastrobuono, quindi l'ASL di Frosinone avrà un suo manager e soprattutto per la settimana di questo incontro Renzi Berlusconi. Lei, interpellato dal direttore Domenica, ha detto che va bene incontrare tutti, ma non l'avrei fatto. Perché non l'avrebbe fatto? No, non ho detto questo. Forse avrei evitato. Avrei evitato magari la sede del Partito Democratico, però ho anche aggiunto che non siamo noi, non tocca a noi scegliere, non siamo noi che scegliamo il leader del centro-destra, sono gli elettori e quindi dobbiamo fare i conti con quel partito, dobbiamo fare i conti con quel leader che resta al momento Silvio Berlusconi e quindi da questo punto di vista nulla da discutere. Forse avrei evitato la sede del Partito Democratico che magari ha dato un po' la sensazione di una eccessiva legittimazione di Berlusconi, soprattutto dopo le note vicende che lo hanno portato fuori dal Senato della Repubblica. Però io adesso non è questo il punto, la mia opinione è che non dobbiamo stare adesso a guardare l'incontro Renzi-Berlusconi, io guarderei molto alla sostanza, no? Le piace questa legge? Ecco, la partenza è buona, è ottima, la legge mi piace, Renzi ha fatto un buon lavoro e quindi nel merito dico che va bene, insomma, anche perché mi pare che Renzi ha gettato un sasso, diciamo, nello stagno della politica, no? Dove per tanti anni non si è mosso nulla, no? Si sono fatte tante chiacchiere, tante parole al vento, però in sostanza non si è visto nulla, non c'è stata nessuna riforma. Ora mi pare di poter dire che siamo partiti bene, la partenza è ottima, è possibile finalmente realizzare questa riforma necessaria per aprire una nuova stagione e soprattutto l'obiettivo di portare questo Paese fuori dalla crisi. Quindi io dico che al di là, diciamo, dell'incontro con Silvio Berlusconi, a me interessa molto la sostanza, interessa il merito, mi sento anche di aggiungere che è giusto, diciamo, siccome le regole appartengono a tutti, non sono di una parte politica, è bene che quando si scrivono le regole e quindi si cambia la legge elettorale, ci sia il coinvolgimento di tutti, della maggioranza e dell'opposizione, perché le regole si scrivono insieme. Poi quando si gioca la partita ognuno ha il suo posto e vinca il migliore. Quindi da questo punto di vista è stato giusto, diciamo, aprire un confronto con il partito più forte dell'opposizione il leader è Berlusconi, è stato giusto incontrare Berlusconi, ecco, forse io avrei evitato da questo punto di vista la sede del Partito Democratico, ma al di là della sede e dell'incontro, ripeto, il merito mi convince. Lei è uno che con le preferenze ci sa fare, diciamo che ha sempre raccolto grande consenso. Sempre con la preferenza, a me è toccata sempre la preferenza, tre volte alla Regione e una volta al Parlamento Europeo, sono sempre stato eletto con la preferenza. Devo dire che due volte ho fatto la corsa nella lista bloccata ma sono stato candidato a servizio, non per essere eletto ma per portare consenso al mio partito e per me è stato anche motivo di soddisfazione e di orgoglio. E questo rimanere con la lista bloccata, seppur con liste più piccole, come lo vede? Per lei è un impedimento ad una piena democrazia del popolo oppure comunque se ci sono 4-5 nomi alla fine uno l'idea se la fa? Ma la circoscrizione è più piccola, è il nome scritto sulla scheda, diciamo, quindi per l'elettore è più visibile la scelta dal punto di vista del voto e quindi anche del parlamentare da eleggere, però non c'è dubbio che io personalmente preferisco la preferenza perché quello è il potere di scelta, no? Tu vai, c'è la lista, scegli e dai la tua preferenza, quindi da questo punto di vista io preferisco il voto diretto dove è l'elettore che sceglie, non c'è dubbio che da questo punto di vista è preferibile la preferenza. Abbiamo visto che in settimana, senza entrare nel merito, è caduta la giunta ad Isola dell'Iri, non le dispiace a lei che fa politica da tutto questo tempo vedere in un paese in cui c'è bisogno così tanto di coesione fare la corsa a quel consigliere in più per far cadere un'amministrazione senza entrare poi nel merito perché ci sono delle dinamiche, ma non c'è bisogno di stare più uniti per cercare di superare le difficoltà e non di scaricare le colpe? Ma questo mercato diciamo al voto per mettere in discussione un'amministrazione comunale a me non ha mai convinto, non mi ha mai convinto e non mi convince, tutto il mio sostegno da questo punto di vista al sindaco Duro, alla sua amministrazione, sono convinto che gli elettori premieranno non chi ha fatto cadere l'amministrazione, ma premieranno l'ottimo lavoro del sindaco Duro e della sua amministrazione. Io preferisco la battaglia diciamo quella a viso aperto, non quella dove magari si cerca in maniera a volte anche sotterranea di carpire qualche consenso per mettere in difficoltà un'amministrazione comunale perché quando il cittadino vota elegge il suo sindaco e quindi quando il sindaco è eletto il sindaco bisogna lasciarlo governare per cinque anni, poi dopo cinque anni, quattro anni ci sono le elezioni e quindi chi vuole cambiare può cambiare, però è necessario soprattutto consentire in un momento di difficoltà e di crisi a chi ha vinto le elezioni di governare e quindi il tradimento, la sfiducia è una cosa che non appartiene alla buona politica e personalmente a me non piace. Oggi è venuta la Lorenzin, lei che idea si è fatto di questa visita? Ha comunque detto che a febbraio sarà anche negli ospedali di Cassino e da Latri che erano quelli in cui i sindaci erano un po' insorti? Ma non capisco che ci azzecca tutto qui, faccio una battuta perché dico è vero è venuta la Lorenzin, ma come dire se parliamo di sanità, la sanità le competenze sono tutte della regione Lazio, a me interessa la regione, il governo della regione sulle scelte, poi c'è anche il ministro, però questa iniziativa così improvvisa diciamo, questo giro degli ospedali poi fatto in questo periodo che si avvicina alla campagna elettorale, personalmente a me queste iniziative lasciano un po' a desiderare, poi magari la rivedremo fra quattro anni, fra cinque anni, quando ci sarà un'altra campagna elettorale, io invece ho bisogno della regione che governa questo territorio e quindi ho bisogno di scelte molto concrete che guardano soprattutto al diritto alla salute dei cittadini. Perfetto, andiamo a vedere la seconda, partiamo con il secondo segmento della nostra trasmissione, andiamo a vedere quelli che sono gli spunti che più ci sono piaciuti in redazione per quanto riguarda la politica nazionale, andiamo a vedere un articolo della stampa che parla delle dimissioni di Gianni Cuperlo, che l'è sostenuto lealmente durante le primarie. Leggiamo velocemente, Gianni Cuperlo si dimette da Presidente del PD colpito dagli attacchi personali ricevuti da Matteo Renzi e allarmato da una concezione omologata di partito. Il segretario lascia poco spazio al rimpianto, accetta le dimissioni, convinto che le critiche si fanno e si ricevono e considera intoccabile l'intesa sulla legge elettorale. Pesa l'attacco mosso contro di lui in direzione dal segretario, questo è un passaggio diciamo duro di Renzi che dice Gianni il tuo riferimento alle preferenze avrei preferito che lo avessi fatto quando ti sei candidato perché se me lo dice Fassina che prende 12 mila voti ha un conto, altro se me lo dice chi entra in Parlamento nel listino bloccato. Hai risposto, scrive Cuperlo in una lunga letta di addio, a delle obiezioni politiche di merito con un attacco di tipo personale, mi dimetto perché voglio avere la libertà di dire sempre quello che penso, nessuna scissione, il partito resta unito. Poi nel PD Stefano Fassina riconosce a Renzi un ottimo lavoro nel aver raggiunto l'intesa, i giovani turchi escludono la presentazione di emendamenti ricorrenti, i bersaniani invece si preparano alla guerra in Parlamento per correggere la legge elettorale. Il segretario non ammette però di riaprire dentro il partito una decisione già presa, in Parlamento si possono fare cambiamenti ma nel PD si fa quello che ha deciso la direzione. Lo strappo di Cuperlo quindi non solo alza il livello dello scontro creando un intoppo a Renzi che dovrà fare eleggere da una nuova assemblea nazionale un altro presidente ma accende anche riflettori sulle divisioni interne alla sua stessa area. Siamo un partito vivace perché se in una settimana è successo molto vivace, molto dinamico insomma da questo punto di vista. Io confermo e continuo a dire che Renzi ha fatto un ottimo lavoro, poi però forse in alcuni attacchi, ora non c'è dubbio che molto probabilmente è cambiato anche un po' lo stile e dobbiamo anche abituarci. Renzi rappresenta una novità non solo perché è giovane ma anche nel modo di governare il partito, anche il suo approccio con la politica e quindi da questo punto di vista non c'è dubbio che cambieranno tante cose. Una fase si è chiusa, si apre una fase nuova. Renzi è anche un decisionista, io vedo che lui è uno che tira dritto. Forse questo è anche positivo, sicuramente è positivo perché a volte l'eccessiva mediazione porta diciamo alla paralisi e quindi poi alla non soluzione dei problemi e quindi da questo punto di vista è bene correre velocemente ed è bene anche la decisione perché poi un leader deve anche saper decidere. Ecco quello che forse mi sento di dire a Renzi che insomma questo è un partito e nel partito ci sono tante idee e quindi il segretario del Partito Democratico ha bisogno anche di capacità di ascolto, ascoltare, ascoltare le osservazioni, ascoltare anche le critiche, fare conti anche con le posizioni diverse che ci sono nel partito. Adesso c'è una proposta, quella proposta va in Parlamento ma il Parlamento dirà la sua, lì c'è un dibattito, i parlamentari, l'importante è non mettere in discussione l'impianto di quella proposta. Ecco questo è il punto diciamo che io considero molto importante e quindi il sistema bipolare, la democrazia dell'alternanza, quindi ecco io credo che in questo momento questo è un passaggio difficile, il Partito Democratico deve discutere ma non ha bisogno di scontri, noi abbiamo bisogno della massima unità, abbiamo bisogno del contributo di tutti, anche di chi la pensa in maniera diversa insomma perché questa è la forza di un grande partito, sapere ascoltare ma sapere anche decidere. 0776 72 8050, tra poco comincieremo a parlare di sanità, di lavoro, di temi caldi della nostra provincia, aspettiamo solo le vostre telefonate, 0776 72 8050, Francesco De Angelis al posto di Gianni Cuperlo si sarebbe dimesso? Ma non lo so perché insomma non c'è dubbio che si è sentito toccato Gianni, forse lì ha un po' esagerato Renzi diciamo nella risposta, non perché non doveva rispondere, però questo ci sta diciamo da questo punto di vista, io forse no, forse non mi sarei dimesso insomma perché magari non sono portato alle dimissioni da questo punto di vista, preferisco la battaglia e quindi non lo so se Gianni ha fatto bene, però io spero che si recuperi diciamo questo spirito unitario, perché non c'è dubbio che questa scelta, la scelta di Gianni è una scelta che pesa, perché insomma io ho sostenuto Gianni Cuperlo, Gianni è una bella persona e il partito ha bisogno di lui, così come abbiamo bisogno di tutti, bene sta facendo Renzi ma bene deve fare tutto il partito democratico. Perfetto, allora non le è piaciuta la visita della Lorenzino, ok? Ma non è che non mi è piaciuta? No nel senso è un po' fuori luogo secondo lei. È un po' fuori, perché sai io posso capire, De Angelis oppure non solo De Angelis, facciamo che so, un pappallone oppure un parlamentare del centrodestra che vabbè visita l'ospedale di... lo facciamo, no? Lo facciamo perché... ma questa visita è così, io la Lorenzin non l'ho mai vista in provincia di Frosinone, non capisco, è venuta, poi mi è stato anche detto che in questa visita, mi pare di capire perché ascoltavo questa sera, mi è stato riferito che i problemi della sanità di questa provincia non si sono visti, nemmeno non si ha discusso, ma noi abbiamo bisogno invece di risolvere i problemi, non abbiamo bisogno di queste iniziative, ma ripeto, l'interlocutore è più importante, è la Regione. Ecco, io vedevo bene una iniziativa, se in questo momento c'era la visita della Lorenzin insieme al Presidente della Regione e quindi concordata dai due livelli istituzionali, il Governo e la Regione, allora posso capire. Ma questa visita è così perché un parlamentare, cioè non mi convince, cioè è qualcosa che non... noi dobbiamo stare al... la gente è stanca, cioè la gente ormai, non bastano più queste cose perché giustamente la gente vuole vedere la soluzione dei problemi, vuole vedere la sanità che funziona, gli ospedali che funzionano, cioè non serve a nulla. Questo vale per la Lorenzin, vale per De Angelis, vale per tutti, perché io credo che queste cose... poi quando si avvicina alla campagna elettorale, adesso ce ne saranno tante altre, no? Prima qualcuno mi diceva, ma perché adesso non... no, io preferisco le mie iniziative, la mia battaglia politica, farla nel corso della legislatura, a due mesi, a tre mesi non mi convince. Bella presa di posizione questa. Le leggo ciò che ha detto la Lorenzin, le faccio un assist perché... Ah, quindi ha detto qualcosa? Sì, sì, ho tre agenzie e qui gliele leggo. La prima, essere in un paese civile significa avere strutture con uno standard minimo di erogazione. I tagli sono stati concepiti in modo rozzo, con l'accetta. Ecco l'assista. La risposta è semplice. Lei è il ministro della sanità, non lo deve chiedere a De Angelis, sono io che chiedo alla Lorenzin. Quindi? Lei chiede alla Lorenzin. La rispedisco al mittente da questo punto di vista, perché se non sbaglio, chi chiede i tagli alla Regione Lazio? È il governo, è il ministro. E quindi sono io che chiedo alla Lorenzin. Perché chiedi alla Regione i tagli? Oggi c'è anche da dire che si è avvicinata una signora che ha detto al ministro, io sono 12 ore che sono qui, che aspetto per essere curata dal pronto soccorso. Sono questi i problemi veri. Ecco, questo è un problema vero. Il problema non riguarda la Lorenzin, ne riguarda i cittadini. Questo è un problema vero. È il problema della signora. Anche a me è capitato di andare... Io sono stato recentemente, perché mia madre è stata un periodo ricoverata in ospedale, e quella sera sono stato al pronto soccorso. Ho trovato una situazione davvero difficile persino da raccontare da questo punto di vista. Sembrava quasi un paese del terzo mondo l'ospedale di Frosinone. La situazione del pronto soccorso di Frosinone, dove non c'è posto. E vedi questi lettini abbandonati, lì nella corsia, questi pazienti e qualcuno che ti chiama e non... Ecco, questi sono i problemi che dobbiamo risolvere. Noi abbiamo realizzato una nuova struttura, una bella struttura. Abbiamo spese noi, il centro-sinistra, quando diciamo... Io ricordo quel periodo, anche perché in quel periodo sono stato assessore regionale. Abbiamo realizzato in tempi record un ospedale, un ospedale moderno, una struttura, una bella struttura. Lo abbiamo fatto perché vogliamo, come dire, una struttura efficiente. E quindi, come dire, da questo punto di vista, quella situazione, diciamo, del pronto soccorso e quella situazione dei pazienti fa appugni, diciamo, con quella struttura. Quella struttura moderna non merita con la situazione. E allora questo è un problema da risolvere. E su questo è d'accordo con la Lorenzin, che ha detto che la situazione dell'ospedale di Frosino ne è paradossale. Abbiamo una struttura bellissima, ma manca il personale. In questo caso, la Lorenzin, come rappresentante del governo, potrebbe intervenire per lo sblocco del turnover, che ricordiamolo è quella... Il blocco del turnover è quella norma, tra virgolette, che non permette di assumere il nuovo personale. Ci sono stati i ragazzi, i studenti di infermieristica che hanno detto, noi ci laureiamo, sì, e poi? Ma io penso che la Lorenzin, se vuole, può fare qualcosa. Può liberare, diciamo, come dire, da questo punto di vista, può liberare delle risorse e può, come dire, consentire alla regione di fare quelle operazioni che purtroppo oggi causa il deficit sanitario, la regione non riesce a fare. Quindi da questo punto di vista... Io ho apprezzato molto il lavoro di Nicola Zingaretti. sta facendo un grande lavoro. Lo promuove? Io sì. Io penso che il lavoro di Nicola è un lavoro importantissimo. Anche perché è una svolta, no? Io in questo lavoro ci vedo anche il segno del rinnovamento, del cambiamento, del modo anche nuovo di far politica, no? Aggredire problemi, cercare di risolvere problemi. Io penso, ad esempio, al progetto... Tutto il progetto di Zingaretti sulla prevenzione, tutto il progetto di Zingaretti sulla casa della salute e quindi la medicina sul territorio e quindi il diritto alla salute dei cittadini, questo è un passaggio molto importante. È un modo nuovo anche di affrontare i problemi della sanità. Quindi da questo punto di vista e credo che anche la scelta dei manager, dei nuovi direttori generali, vanno nella giusta direzione. Cioè in sostanza si premia il merito e quindi le capacità, le competenze, la professionalità per affrontare un tema particolarmente difficile e complicato perché i problemi sono tanti. Ma non c'è dubbio, io continuo a dire che la salute è il bene più prezioso dei cittadini e quindi la salute è al primo posto e quindi noi dobbiamo affrontare e risolvere questo problema. Ma per affrontare e risolvere questo problema noi dobbiamo diversificare la rete ospedaliera, dobbiamo puntare sul territorio e quindi la medicina del territorio e quindi un grande lavoro lo possono fare anche i medici di base da questo punto di vista e poi abbiamo bisogno dell'eccellenza. Frosinone ha bisogno dell'eccellenza e quindi la qualità dell'assistenza e del servizio sanitario. È un progetto lungo, ma sono convinto che Nicola ce la può fare. Sono stati questa sera, intanto, proprio notizia degli ultimi minuti, sono arrivati 350 mila euro di finanziamento per la Casa della Salute di Ponte Corpo, che è la prima che aprirà sul territorio della provincia di Frosinone, già aperta come ospedale distrettuale e sarà proprio il coronamento di questo progetto, verranno addirittura aumentati anche i posti per l'adeggenza infermieristica. Quindi si è incanalato il discorso verso... Ecco, questa è una bella operazione, la Casa della Salute. Prendiamo la situazione di Ponte Corpo dove c'era una struttura ospedaliera che rischiava di morire e invece questo progetto, il progetto della Casa della Salute rilancia quella struttura ospedaliera e allo stesso tempo consente di dare delle risposte ai cittadini e soprattutto risponde a quella domanda nuova anche di salute. E mi pare una risposta importante. Ed andrà a decongestionare il progetto soccorso di Cassino. E certo, diversificazione significa anche questo, perché a volte la risposta è sempre l'ospedale, ma non sempre l'ospedale. Ecco perché io penso ad esempio al rapporto molto stretto tra il territorio e quindi la medicina di base, i servizi ospedalieri, a volte capita che i due livelli non si parlano e questo non aiuta. E quindi da questo punto di vista c'è da cambiare molto. Ecco, io penso, e la semplifico, la dico in una battuta, la sanità ha bisogno di una rivoluzione. È iniziata la rivoluzione con Nicola Zingaretti. Abbiamo le prime due telefonate. Partiamo con Michele D'Averoli. Benvenuto Michele, prego la sua domanda. Ok, buonasera. Buonasera. Seda, ho sentito le ultime parole delle cose che ci vuole veramente un rinnovamento a livello di sanità. Dalla parte dell'On. De Angelis. Ma io alcuni tempi fa, un'altra volta, già ne abbiamo parlato, ancora l'ospedale doveva aprire l'ospedale di Frosinone e io gli dissi all'On. De Angelis, prima di aprire l'ospedale, se dovete portare tutto lo stesso personale, i dirigenti e tutti, fate prima a spallarlo, a buttarlo giù quell'ospedale, perché non è funzionante. E l'abbiamo visto oggi, come oggi, che nei pronto soccorsi c'è un sacco di gente buttata sulla barella. Io ho avuto un caso personale, un mio caro, portato in ospedale, la sera alle 10 e mezzo, un'infermiera, non so se sia infermiera o chi, con quale codice vieni ricoverato? Ma tu vieni con i piedi? Dici, io sono codice rosso perché mi sto morendo, sto morendo. No, ma vieni con i piedi, tu non sei nemmeno codice bianco, verde. Alle due e mezzo è deceduto, questa è la sanità. Poi per quanto riguarda la dirigenza, per quanto riguarda la dirigenza, non deve dire male del Ministro della Sanità che è venuto a Frosinone, perché Zingaretti, il Presidente della Regione Lazio, è a conoscenza di tutti, perché c'è il suo collega Bruschino, io lo chiamo Bruschino, che si fanno tutti quanti grossi. Onorevole De Angelis, posso chiederti una cosa? Posso chiederti una cosa? Fa della riunione di tutti, di tutti i parlamentari di Frosinone, date le dimissioni, andatemene via, andatemene via. Signor Michele, però, mi permetta di intervenire, signor Michele? Eh no, grazie, però magari se uno si confrontasse e facesse una domanda sarebbe meglio. Non credo che lei si sia mai candidato per cambiare qualche cosa, dal momento che ci sono delle persone che sono state elette e legittimate dal voto di migliaia di persone. Scusami direttore, io sono un cittadino che sto pagando le tasse. Ma certamente, come me! Sono un cittadino che paga le tasse e voglio che la gente viene servita, non che si può sentire dall'onorevole De Angelis la settimana, l'ultima volta che è venuto, che dice che prende uno stipendio europeo, che 2 mila euro li dà al partito, 2 mila euro li dà al partito, c'è stata la gente che si sta a morire fame in Italia. Va bene, grazie signor Michele. Beh, per me è motivo di soddisfazione sottoscrivere 2 mila euro al mese al mio partito, insomma, perché sono destinati alla buona politica, quindi la pensiamo da questo punto di vista in maniera diversa. Ma tornando al problema, io sono d'accordo, io non contesto la visita della Lorenzin, io contesto il tempo, non andava fatta oggi, andava fatta magari qualche tempo fa, un anno fa, andava fatta d'intesa con la Regione e quindi insieme a due livelli istituzionali, io penso che dobbiamo risolvere i problemi, questo è l'obiettivo. La situazione dell'ospedale di Frosinone la conosciamo, non è una situazione di oggi però. La Lorenzin è venuta oggi e scopre e vede il pronto soccorso di Frosinone, ma la situazione dell'ospedale di Frosinone è una situazione che si trascina dall'apertura del nuovo ospedale. Dopo pochi mesi, pochi mesi, noi siamo stati già in quella situazione, purtroppo quella situazione permane e noi la dobbiamo risolvere. Questo deve essere l'obiettivo attraverso quelle scelte. La Casa della Salute è una soluzione che aiuta anche a risolvere quel problema, che aiuta anche. Poi abbiamo bisogno di tanti altri provvedimenti e credo, ecco perché dicevo, c'è bisogno di una rivoluzione. La rivoluzione è appena iniziata. Dovremmo avere Antonietta da Frosinone. C'è signora Antonietta? Sì, sì. Prego. Buonasera onorevole. Buonasera signora. Allora, io vivo di prima persona il problema della salute, ho un figlio disabile, sono stata tanto male pure io e io devo ringraziare l'ematologia di Frosinone che mi hanno curato. Ho fatto due autotrapianti a Latina e anche a Latina sono molto eccellenti. Però le volevo dire una cosa. Io da un po' di tempo che sento parlare che è del centro trasfusionale, dell'ematologia, che devono togliere. Ma lei onorevole si rende conto che qui soldi non ce ne sono. Cominciamo a diventare tutti vecchi. Non abbiamo più nessuno. Ma a Roma noi chi ci accompagna a curarci? Quando avete fatto un ospedale, chi per voi, il governo, chi è che ha fatto questo grande ospedale di eccellenza, bello e tutto? Ma è giusto, onorevole, che questo ospedale debba essere il peggio del terzo mondo? Non c'è l'eccellenza, come dice lei. Non c'è niente. Il pronto soccorso. Ma ci rendiamo conto? Io venti giorni fa sono stata al pronto soccorso con mia cugina che stava morendo per mal di testa. Lì c'era gente da venti ore con le gambe rotte e non le avevano fatte ancora le lastre. Ma ci dobbiamo vergognare. Ma io dico voi politici, a Zingaretti, lei sta tanto parlando di Zingaretti e io l'ho votato Zingaretti, lo dico pubblicamente perché mi è piaciuto quanto è venuto a Fosinona alla sala teatro. Ma ci vogliamo rendere conto che voi politici, Buschini l'ho preso io alla sala teatro oggi pomeriggio e mi sono incavolata, forse ho sbagliato, non lo so. Ma voi dove state? Ma voi lo vedete quello che sta succedendo in questo ospedale? Dove state? A Zingaretti ce l'avete riferito, lei come parlamentare, Pallono come parlamentare, tutti questi e la spila botte che l'abbiamo mandata al Senato. Ma questa gente dove sta? Gli occhi dove ce l'ha? Sono ciechi, sono sordi. La Lorenzini è venuta, sì, però Zingaretti nulla toglie che può venire. Gli sprechi dove stanno? Stanno nelle amministrazioni, non dentro i reparti perché tutti gli infermieri e tutti i medici che non vogliono lavorare i reparti stanno nelle amministrazioni. Io sono 30 anni che ho un'associazione di ragazzi disabili e lei a me mi conosce perché io l'ho votata a lei, l'ho mandata al Parlamento Europeo. Ma lei a noi, in cambio, cosa ci sta tanto? Io ho un figlio che l'ho curato in Francia a spese mie per colpa dell'ospedale di Prosinone. Adesso fate a chiedere la fisioterapia, devo andare a Cioceria oggi, devo andare a Lazio TV a espormi per far fare la fisioterapia a mio figlio perché la coordinatrice prende chi si pare e chi ha gli compari. L'onorevole questo ce lo voglio dire e lui mi dovrebbe incontrare. Penso che abbia capito l'onorevole, non per qualcosa, non che la voglio bloccare, però abbiamo altre telefonate. Perché non è giusto che loro dicono che dobbiamo fare e dobbiamo fare. Chi lo sta a fare? No, i cittadini che andiamo di prima persona a esporci in giro, a chiederle le mosse, ai diritti. Grazie signora, grazie, se no non ce la facciamo andare avanti. La signora, io la ringrazio perché, e poi la signora ha ragione, io condivido, quella situazione non piace nemmeno a me, non piace a nessuno. L'unica cosa che io voglio dire è diamo il tempo a Zingaretti, diamogli anche il tempo, diamo il tempo alla regione di risolvere i problemi. I problemi della sanità sono problemi che si trascinano da anni e quando la signora dice che cosa avete fatto, noi abbiamo realizzato in tempi record una struttura bellissima, bella, moderna. Ora, la situazione del pronto soccorso non merita quella struttura, sono d'accordo, però qualche cosa è stato fatto. Adesso dobbiamo risolvere altri problemi. Siamo all'inizio, la nomina dei nuovi direttori, la casa della salute, il territorio, la prevenzione, la diversificazione della rete ospedaliera, cioè diamo il tempo, no? E poi il giudizio, perché non deve venire meno il giudizio, se c'è buon governo. E quindi la gente deve poter toccare con mano il buon governo. Quindi da questo punto di vista io penso che noi ci sentiamo di poter assumere questo impegno e chiediamo a tutti, diciamo, di sostenere questa battaglia, che è una battaglia di rinnovamento, dove non dobbiamo fare proclami, perché non dobbiamo fare nemmeno propaganda. Cioè io non voglio... Anche perché si sta prendendo? Ma no, ma la salute non ha un colore politico, non è di destra, non è di sinistra, la salute è la salute. E allora noi dobbiamo migliorare il... E noi conosciamo la situazione, io la conosco. Io purtroppo, recentemente, a me è capitato di andare più volte, due o tre volte in ospedale, diciamo, ma per, come dire, perché c'era mia madre o perché qualche altro parente. Quindi è l'ospedale della mia città, lo conosco, so in che situazione sta. Io la prima cosa che chiederò al direttore generale quando arriverà, la prima cosa che gli chiederò è di risolvere quella situazione del pronto soccorso, così come sul centro trasfusionale. E quando io dico l'eccellenza, noi abbiamo bisogno dell'eccellenza, perché l'eccellenza non c'è. La struttura moderna merita l'eccellenza dal punto di vista dei servizi e quindi della qualità dell'assistenza sanitaria. E allora, quel centro non si tocca. Ebbene ha fatto oggi la Regione a dare quelle garanzie, perché mi pare che la posizione di questa sera ci dice che fortunatamente, diciamo, non ci sono problemi e quindi da questo punto di vista non c'è pericolo. Io sono soddisfatto perché non abbiamo l'eccellenza, ma quello che c'è di buono, non bisogna toccarlo, deve restare a Frosinone. Abbiamo Angelo D'Aripi, benvenuto Angelo. Buonasera. Prego. Senta, io vorrei domandare a Francesco, che è un mio paesano, che lui è troppo buono, è troppo umano, è una vita che fa il politico. Ha dato tanto al territorio, specialmente anche al mio paese. Purtroppo i nostri politici non ce li sappiamo tenere, li maltrattiamo. E a me quando parlo normale di Francesco, incomincio a sudare, perché so che persona è. Certe volte, caro Francesco, devo ricordare a noi tutti che purtroppo, prima di Zingaretti, che è un signore, c'è stata un'altra signora insieme a qualche altra persona che hanno chiuso gli ospedali, i pronti soccorsi, e la gente ci andava dietro, ci correva, ci correva dietro. Adesso Zingaretti si è trovato in questo buco, sta facendo tutto il possibile per accorciare i tempi. Questo bisogna dire alla gente. Perfetto. Francesco, andiamo avanti, vai avanti, sei giovane. Noi ti sosteniamo, oggi sono stato giù alla manifestazione, ma dove sta la gente incazzata? Lì eravamo cento persone, non c'è stato nessuno. Ma come si fa? Grazie Angelo. No, ma... Una cosa, facciamo la seconda telefonata subito, così poi rispondono tutte e due. C'è Antonietta D'Apofi. D'Apofi. Buonasera, onorevole. Buonasera. Senta, io all'onorevole le volevo dire una cosa. Parlo a nome di tutta la ciorceria, perché siamo ciorceri di puro sangue, quindi a certi valori noi ci teniamo. La mia domanda è questa, che andrebbe rimissionato tutti gli ospedali, non solo quello di Frosinone. Prima di tutto quello di Frosinone, perché è rimasto unico e raro. E poi un minimo di attenzione per quanto riguarda i pazienti, perché io sono stata parcheggiata quattro ore, mi si erano dimenticata di farmi una tacca alla testa. Non dovevano fare un'operazione, ma una tacca alla testa che era una cosa molto importante, con una pressione a 200. E poi mi pigliavano anche in giro dicendo, adesso sta parlando, è contenta, gli è passato tutto. Non devono esistere ammalati di serie A e di serie B. Questa è una cosa che se la devono mettere in testa anche i medici, perché ci trattano a pezzi in faccia. Grazie signora. Grazie. Prego. No, le due... No, io ringrazio la signora e ringrazio Angelo, perché, insomma, devo dire che Angelo mi ha alzato una palla, no? E quindi io adesso la devo schiacciare. Infatti mi sembrava strano che ancora... No, perché... Perché adesso diciamoci la verità, no? Io non... Quando si discute... Io sono stato in Regione, io ho fatto l'assessore regionale, io so che cosa pensa il centrodestra della sanità e che cosa pensa il centrosinistra, al di là della situazione degli ospedali. Allora, diciamoci la verità, che quando governava la destra in Regione, l'obiettivo, e io lo posso dire con assoluta certezza, c'era un obiettivo, chiudere gli ospedali pubblici per aprire la strada alla privatizzazione del servizio sanitario. Io, quando sono diventato assessore, il primo provvedimento della giunta di centrosinistra di cui io ho fatto parte è stato il provvedimento che ha strappato la delibera con la quale il centrodestra voleva vendere l'ospedale di Alatri. E noi dobbiamo sapere queste cose. Ora, è vero che la situazione è critica, la gente è portata a fare di tutta un erba un fascio, ma non è così. I problemi ci sono, non sono risolti, alcuni sì, molti restano. Stiamo cercando di risolverli, però dobbiamo sapere che c'è una giunta che oggi governa la Regione Lazio che vuole difendere e valorizzare la sanità pubblica. ed è stato sconfitto un disegno politico, il disegno della privatizzazione, per la stessa ragione che ci ricordava la signora. Quando la signora dice per la sanità non ci sono i cittadini di serie A e i cittadini di serie B, non ci deve essere il portafoglio che fa la differenza. Dinanzi a quel problema siamo tutti uguali. E allora noi abbiamo bisogno di potenziare la sanità pubblica perché dobbiamo difendere per tutti il diritto alla salute. A me quando si dice ma i conti, il deficit, sì tutto vero, ma fino ad un certo punto perché quando discutiamo di sanità dobbiamo mettere da parte un attimino i conti perché a volte i conti possono portare anche il meno. L'importante è che però la sanità funzioni perché ci sono dei servizi che sono servizi essenziali alla persona. E allora il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il diritto alla casa, il diritto alla mobilità sono diritti che dobbiamo assicurare a tutti i cittadini e quindi ecco io farei attenzione da questo punto di vista. Attenzione a non... Poi Angelo dice per quello che mi riguarda i cittadini mi conoscono. Io quando sono stato in Regione basta chiedere ai sindaci di questa provincia quello che ho fatto per questo territorio e questa provincia. Insomma, poi non lo devo dire io perché poi se lo dico io è propaganda e allora io siccome la propaganda non la voglio fare è come dire, i risultati poi si vedono, si toccano con mano e a volte quando si toccano con mano i risultati si vede anche la differenza, no? Perché non è vero che tutti i governi sono uguali. Una differenza c'è. Lei tra le tante sue attività quando era alla Regione c'è stata quella sicuramente importantissima della legge 46 sull'indotto Fiat. Oggi Fiat si... Ecco, mentre il centro... me lo faccia dire. Mentre il centrodestra quando ha governato la Regione ha destinato a quella legge la legge 46 50 mila euro 50 mila? 50 mila euro. L'assessore regionale De Angelis quando stava alla Regione ha destinato a quella legge ha destinato a quella legge la legge 46 per le piccole e medie imprese per il lavoro per l'indotto Fiat 55 milioni di euro tutti spesi a sostegno delle imprese delle infrastrutture dei servizi e del lavoro. È una differenza però non si può dire siamo tutti uguali no? E questi sono numeri eh? Da noi si dice carta canta e carta canta 50 mila e 50 mila 50 milioni sono 50 milioni e le strutture stanno lì eh? I servizi le infrastrutture alle imprese il polo della logistica e dell'innovazione i contributi alle piccole e medie imprese il sostegno al lavoro e all'occupazione stanno lì Ecco proprio in questo momento in cui Fiat si appresta almeno nelle speranze ed in quelle che sono gli auspici di tutto il territorio ma che traspaino anche dalle parole di Marchionne a vivere questo nuovo rinascimento Cassino come polo del rilancio di Alfa Romeo lei ci crede a queste parole di Marchionne? Io non abbasserei la guardia voglio essere eh non dico che non credo non credo alle parole di Marchionne però dico che non dobbiamo abbassare la guardia perché la situazione è una situazione molto critica noi dobbiamo chiedere alla Fiat a Fiat dobbiamo continuare a chiedere a Fiat un impegno concreto per lo stabilimento lo dobbiamo fare perché noi abbiamo fatto molto per lo stabilimento Fiat io ho ricordato la 46 la 46 è stata pensata per sostenere Fiat per sostenere il lavoro quindi la Fiat non può dire non può dire le istituzioni non ci sono state in questi anni no ci siamo stati e abbiamo sostenuto la Fiat in un momento di difficoltà e di crisi e adesso tocca alla Fiat nel momento del rilancio tocca alla Fiat investire su Cassino e allora io dico vanno bene le parole però le parole devono seguire i fatti e siccome devono seguire i fatti noi non dobbiamo abbassare la guardia dobbiamo continuare a chiedere ai vertici della Fiat un impegno concreto per lo stabilimento di Cassino per quanto riguarda invece l'accordo di programma era partito in pompa magna questo nuovo questo new deal per il nord della provincia di Frosinone adesso sembra essere un po' scemato l'interesse a che punto siamo magari? ma no perché adesso magari siamo nella fase diciamo quella operativa all'inizio l'inizio è stato diciamo un inizio un po' con i fuochi d'artificio perché non c'è dubbio quando viene firmato l'accordo di programma si mettono in campo le risorse per quella situazione di crisi della zona nord della provincia vedi la videocon vedi la marangoni insomma le situazioni sono tante ha ragione la signora torno alla signora quando dice non solo l'ospedale di Frosinone ma quando io dico ripensare la rete ospedaliera vuol dire che noi dobbiamo anche diversificare la rete ospedaliera quando dico situazione industriale in provincia di Frosinone non penso solo alla Fiat penso alla situazione di difficoltà di tante piccole e medie imprese quindi da questo punto di vista adesso c'è quello strumento importante l'accordo di programma ci crede? sì non siamo fermi si sta lavorando la regione sta lavorando adesso se ne parla poco perché siamo nella fase diciamo di predisposizione cioè degli strumenti necessari per poter mettere in campo i progetti e le risorse e quindi da questo punto di vista credo che la regione sta facendo un buon lavoro e saranno sicuramente risorse utili che devono servire a favorire investimenti che siano investimenti produttivi cioè noi dobbiamo dare questi soldi per lo sviluppo e per il lavoro o ci sono le condizioni dello sviluppo e del lavoro oppure altrimenti questi soldi vanno spesi bene questo è il punto e adesso l'impegno della regione è spendere bene queste risorse perché le risorse non sono tante in questo periodo sono poche e quelle poche che ci sono vanno spese bene vanno spese per la ripresa economica allora adesso andiamo a vedere un altro segmento della nostra trasmissione che è quello della domanda ogni settimana onorevole c'è una domanda che arriva da un rappresentante delle associazioni del mondo culturale dei sindacati e questa settimana è toccato al professor Pietro Alviti docente di scuola superiore ma anche esponente della diocesi di Frosinone Veroli amante della musica poi no? amante della musica ma il coro il coro di Ceccano sì una delle cose più interessanti che secondo me i cittadini attendono dalla politica in maniera particolare da chi gestisce in grado di poter orientare un movimento della società in un senso piuttosto che in un altro è la condizione dei giovani la condizione del lavoro e del rapporto con il lavoro e alcuni mesi fa il vescovo di Frosinone Monsignor Spriafico lanciò un appello alla politica che si interessasse di questa situazione così drammatica per i nostri ragazzi io insegno in un liceo e vedo la loro incertezza nello scegliere una strada piuttosto che un'altra proprio perché hanno questo condizionamento che sentono da ogni parte sentirsi che gli viene detto da ogni parte cioè sul fatto che non ci sarà lavoro allora da quell'appello del vescovo di Frosinone è venuta fuori qualche indicazione abbiamo messo in campo qualche elemento innovativo c'è la possibilità di vedere una luce al fondo di questo tunnel di cui tutti ci parlano ma davvero il rischio reale è che questi ragazzi che escono dalle scuole che si diplomano che vanno all'università non abbiano neanche la speranza di poter trovare lavoro e quindi anche perdano coraggio e smettano addirittura di cercarlo come i dati ci dicono per quanto riguarda il nostro territorio il monito a cui faceva riferimento il professor Alvidi era quello di settembre scorso quando il vescovo Spriafico durante l'apertura del convegno diocesano lanciò strali fortissimi contro la politica ecco un tema che a lei sta molto a cuore quello dei giovani ce l'ha detto all'inizio bisogna guardare al futuro quell'attacco tra virgolette frontale di monsegnor Spriafico ha scosso qualcosa o comunque c'è tanta difficoltà per poter dare una risposta ai giovani no è stato raccolto e noi dobbiamo raccogliere diciamo l'appello del vescovo perché quell'appello diciamo tocca i problemi sono tanti però c'è una priorità oggi se penso soprattutto ai nostri figli ai giovani la priorità è il lavoro oggi il problema del lavoro è un problema molto serio è un problema per i giovani è un problema per quelle persone che che non trovano lavoro ma anche per quelle persone che perdono il posto di lavoro perdono il posto di lavoro cioè è un problema serio il paese è diventato più povero il cedo medio oggi è povero l'Italia sta soffrendo l'Italia non ce la fa fatica e quando penso ai giovani io penso soprattutto ai nostri figli e a volte mi chiedo i nostri genitori in momenti anche difficili penso alla guerra hanno però consegnato a noi un paese migliore ecco la sfida la nostra sfida oggi è poter consegnare noi ai nostri figli un paese un paese migliore allora ecco io credo che noi dobbiamo prima si è detto l'accordo di programma ecco quella è un'occasione un'opportunità ma io non dico solo l'accordo di programma penso ad esempio al pacchetto di provvedimenti che abbiamo approvato a strasburgo sulla politica di coesione sono 370 miliardi di euro per i prossimi 7 anni saranno le uniche risorse certe disponibili che dobbiamo spendere spendere bene sono risorse destinate alle politiche sociali alle piccole e medie imprese all'innovazione alla ricerca all'energia utilizzare queste risorse perché noi abbiamo un problema il problema è che spesso non utilizziamo queste risorse che quando non vengono spese tornano a Bruxelles e se ne vanno da un'altra parte noi dobbiamo trattenere queste risorse in Italia nel nostro paese nella nostra regione ecco perché il lavoro della regione la cabina di regia sui fondi strutturali è molto importante perché queste saranno le uniche risorse e noi le dobbiamo utilizzare le dobbiamo utilizzare per la ripresa economica per lo sviluppo e soprattutto per il lavoro perché dobbiamo restituire una fiducia e se vuoi anche una speranza ai nostri giovani la fuga di cervelli mortifica a me preoccupa tanti giovani che se ne vanno che sono costretti a lasciare il nostro paese no noi dobbiamo vincere questa sfida e questo paese ce la può fare perché in questo paese ci sono tante forze tante energie c'è la nostra forza e la nostra creatività degli italiani la nostra intelligenza la nostra passione e allora ce la possiamo fare il momento è difficile è una battaglia dura ma io considero questa vedi a volte si discute la legge elettorale le riforme tutto vero tutto bene ma io continuo a dire che la vera priorità di questo paese è il lavoro il lavoro il lavoro noi siamo pronti per raccogliere in maniera globale la sfida dei fondi europei abbiamo le strutture per poter mettere a frutto questa grande opportunità che da come dice lei è l'unica certezza che abbiamo per poter spendere qualcosa no ci dobbiamo attrezzare al momento ancora non ci siamo io sono convinto lo dice un parlamentare europeo perché io io ho fatto l'esperienza da assessore regionale dove ho gestito i fondi strutturali il polo della logistica e dell'innovazione di Cassino l'ho realizzato grazie ai fondi strutturali un progetto un progetto pensato e realizzato in tempi brevi brevissimi a conferma che queste risorse sono risorse preziose però noi ci dobbiamo attrezzare noi dobbiamo primo prima questione scommettere di più sull'Europa l'Italia rispetto ad altri paesi ha scommesso poco sull'Europa in questi anni scommettere di più sull'Europa l'Europa non è lontana l'Europa è vicina noi dobbiamo la nostra battaglia è per un'altra Europa non contro l'Europa non l'Europa dell'austerità l'Europa del rigore ma l'Europa dello sviluppo della crescita del lavoro questa è la sfida che noi dobbiamo vincere e quindi scommettere sull'Europa e mettere in campo gli strumenti giusti per utilizzare queste risorse e quindi una cabina di regia progetti che siano progetti in sintonia con gli obiettivi dell'Europa pensa agli obiettivi dell'Europa 2020 noi dobbiamo cioè se l'Europa investe in innovazione e ricerca noi dobbiamo stare sull'innovazione e dobbiamo stare sulla ricerca e quindi da questo punto di vista maggiore sintonia della nostra progettualità la nostra la progettualità del nostro paese con i progetti dell'Europa e quindi programmazione e quindi progetti concreti e quindi investimenti produttivi e soprattutto strumenti ecco perché bene sta facendo in questi mesi la regione che si sta attivando soprattutto sugli strumenti gli strumenti necessari non solo per trattenere ma per utilizzare e per spendere bene queste risorse lei è pronto a ricominciare l'avventura in Europa a continuare l'avventura in Europa queste prossime europee sono pronto leggo ogni tanto qualche giornale io sono pronto sono prontissimo non mi sono mai fermato quindi da questo punto di vista sono in corsa già da tempo e quindi io non devo iniziare la campagna elettorale perché la campagna elettorale è il mio lavoro è quello che ho fatto in questi anni quando si dice l'Europa è vero non ho fatto l'assessore ho fatto altre cose l'assessore regionale assumeva dei provvedimenti diciamo che andavano in una certa direzione il parlamentare europeo fa altre cose ma io posso dire di due provvedimenti ne ho fatti tanti perché una volta è successo sempre in trasmissione che mi hanno detto ma solo due no ne ho fatti tanti però non li posso raccontare tutti però racconto due provvedimenti molto importanti la direttiva sui ritardi di pagamento alle imprese da parte della pubblica amministrazione vedo che proprio oggi si discute della procedura di infrazione perché l'Italia continua a non pagare noi siamo maglia nera ancora oggi veniamo dopo la Grecia e quindi da questo punto di vista quello è un problema è un problema è un problema vero perché noi dobbiamo rispondere alla crisi delle piccole e medie imprese noi non siamo la Germania noi non siamo il paese della grande industria noi siamo il paese delle piccole e medie imprese che rappresentano la parte più dinamica del tessuto economico e produttivo del paese se fallisce il tessuto delle piccole e medie imprese fallisce il paese fallisce l'Italia e questo è il primo provvedimento il secondo è quel provvedimento dei 370 miliardi io sono stato relatore sulla politica di coesione sulle risorse che utilizzeremo nei prossimi sette anni e ad esempio sono soddisfatto perché ho presentato un pacchetto di emendamenti che Strasburgo ha approvato sulla semplificazione sullo snellimento sulla facilità di accesso a queste risorse tutti i provvedimenti che vanno nella giusta direzione ecco come utilizzare queste risorse un po' dobbiamo fare noi un po' deve fare anche l'Europa e quindi da questo punto di vista io ho presentato questo pacchetto molto importante di provvedimenti che adesso aiuta e facilita l'utilizzo sia da parte della pubblica amministrazione ma anche da parte delle imprese di queste risorse e quindi io sono pronto insomma adesso partirà la campagna elettorale quando partirà io sono pronto per fare la mia corsa ai nastri di partenza e per dare tutto il mio contributo per il successo del mio partito del Partito Democratico velocemente perché abbiamo una telefonata che attende spulciando sui siti internet anche a livello nazionale soprattutto c'era un sito a livello nazionale non mi ricordo quale diceva tra quelli che devono tremare perché Renzi è il rottamatore c'è anche Francesco De Angelis chi? dove? non ricordo era un sito a livello nazionale glielo farò avere lei ha questa ha questa paura di essere rottamato? ma no perché se mi deve rottamare qualcuno ci penseranno gli elettori insomma io sarò candidato siccome io non sono in una lista bloccata non sono mai stato in una lista bloccata io vengo eletto se i cittadini mi votano se prendo le preferenze io alle ultime elezioni europee ho preso circa 90 mila voti di preferenza insomma non sono pochi non sono pochi 90 mila quindi saranno i cittadini a decidere da questo punto di vista perfetto abbiamo Romelio sì ho capito bene il nome Romelio? sì il nome mio è Romelio prego da Santa Maria delle Mole dunque volevo riferire questo che questo onorevole molto bravo è della sinistra va bene? la polverina ha levato tutti i letti in Italia la polverina stava con Berluscona ha levato l'ospedale ha levato questo e quest'altro io mi ricordo che mia madre nel 1929 scoprì una medicina la medicina che la muffa levava il graffio giusto? passo Fleming si prendi il foglio di mia madre e fa la pellicillina l'ha capito? sì sì dunque questo universo l'universo il Big Bang non c'è mai stato ma se andiamo sul Big Bang signor Romelio non finiamo più il Big Bang non c'è mai stato l'universo è stato sempre vuoto si deve sapere come è formato il Sole e le altre costellazioni questa terra sotto Mussolino c'è stato sempre il Parlamento non c'è mai stato è devastato da Mussolino fino ad oggi perché il Parlamento sono 30 milioni con la camicia bianca e 30 milioni pagano le tasse quelli altri pagano le tasse dopo di quelli che rientrano come soldi lori grazie grazie signor Romelio abbiamo abbiamo capito questo onorevole qui non è che fa politica che può fare l'onorevole io l'ho capito però una persona per me è un signore praticamente personalmente ti ringrazio allora non le frego niente della politica però interesse dell'ospedale ho capito bene noi abbiamo San Pietro che ha mille chiese facciamo facciamo dividiamo sti chiese facciamo appartamento e facciamo dormire la gente perché a me si candidi signor Romelio si candidi perché ha delle idee sicuramente sicuramente innovativi è un'idea sto scrivendo un libro io sono un grande cantante bene bene grazie 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 mille nelle sue parole però c'è c'è un dato importante che noi non dobbiamo mai dimenticare pensare agli ultimi a quelli che non ce la fanno Antonio da Villa Santa Lucia buonasera 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 sono onorato di parlare con Francesco De Angelis sono di Villa Santa Lucia De Angelis ciao sono il paese anche di Michele Meta ah di Michele sì sì esatto e le volevo ma viene viene ogni tanto Michele a Villa sì viene sì perché ancora c'è la mamma però eh sì lo so per i troppi impegni che c'ha viene a due ore in un'ora è difficile pure salutare eh lo so l'ho sentito oggi l'ho sentito infatti era in riunione sì sì sentite volevo porre una domanda il fatto della sanità ci sono molti lacune molti molti immagini però io penso che eh il problema sa anche che molti dottori hanno gli studi privati allora un povero paziente malato per essere ricoverato in ospedale pure per avere più cura deve andare per forza dentro a questi studi privati perché devono pagare perché poi se è un ricatto è un ricatto pure perché se chiedi la ricevuta ti fanno pagare l'IVA e quindi è una è una è un'ingiustizia non dovrebbe essere chiesta la ricevuta quello è il problema signor Antonio dovrebbero farla in maniera automatica d'obbligo d'accordo d'accordo però purtroppo ci marciano sopra questo è il problema e poi uno che c'ha il male pazienza non tutti non tutti però signor Antonio non facciamo poi come quelli che telefonano e dicono che i politici sono tutti uguali no 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 c'è qualcuno che fa il furbetto e poi alla fine viene peccato e paga stiamo per chiudere se fa la domanda signor Antonio dicevo la proposta di legge quando stava a Prodi che i dottori dovevano dichiarare o lavorare in struttura pubblica o privata quella dovrebbe essere ripresa e studiata ancora e porra a questi dottori perché non è possibile che i dottori lavorano in ospedale e poi hanno lo studio privato qui ci fanno una mercanzia e non va bene non va bene questa cosa questo volevo dire perfetto grazie grazie signor Antonio grazie davvero noi dobbiamo rendere competitivo il sistema sanitario e quindi da questo punto di vista quando si pensa alla sanità pubblica noi dobbiamo mettere al primo posto la sanità pubblica il servizio sanitario pubblico e quindi accettare la sfida perché il pubblico e il privato si possono anche integrare però è prioritario il servizio sanitario pubblico e questo deve valere per tutti deve valere per la politica deve valere anche per i medici anche i medici devono sapere perché noi quando discutiamo di sanità anche questa sera tante domande tutte sulla sanità sono la conferma che è un problema molto ma molto sentito dai cittadini che presenta tanti problemi non solo perché presenta tanti problemi perché la sanità è la sanità la sanità è la nostra salute ecco perché io dico la salute del cittadino al primo posto ecco perché allora noi dobbiamo da questo punto di vista fare un grande lavoro ora nessuno ha la bacchetta magica cioè io non penso a chi dice adesso arrivo io e risolvo tutti i problemi no sono problemi che ci sono da anni insomma e che noi discutiamo io penso ad esempio questa sera si è detto della situazione del pronto soccorso perché quando devi fare una visita e a volte devi aspettare due mesi tre mesi quattro mesi cinque mesi l'accettazione di quella visita e poi non puoi aspettare e poi sei costretto ad andare dal privato è questa la sanità che dobbiamo cambiare questo significa rimettere al centro la sanità pubblica allora con questa rivoluzione diciamo e con questi segnali che sono segnali importanti che vanno nella giusta direzione io credo che chi oggi governa la regione ha il tempo sufficiente in questi cinque anni per cambiare la sanità e rimettere al centro perché noi quando discutiamo di sanità dobbiamo rimettere al centro il cittadino l'utente il paziente cioè noi per capire se la sanità funziona noi dobbiamo quando vai all'ospedale di Frosinone entri e vedi il pronto soccorso basta quello per dire se funziona o non funziona noi dobbiamo migliorare non solo la qualità ma anche l'efficienza del servizio sanitario pubblico questa è la sfida ed è una sfida che dobbiamo vincere prima di chiudere perché lei a cui su un'altra televisione c'era eletta e ha detto no alle liste bloccate i cittadini devono scegliere i loro rappresentanti sette minuti fa l'ho detto e sono in sintonia allora con il presidente del Consiglio ah l'ho beccata anche perché ma poi posso dire una cosa sì velocissimo se no ci sfumano è più bello essere eletti con la preferenza per una ragione molto semplice perché quando sei eletto in una lista bloccata non fai nemmeno la campagna elettorale che gusto ci prendi invece essere eletto e poter dire io sono stato eletto perché mi hanno votato 20.000 30.000 80.000 cittadini è quello di da più forza se è più forte e noi e questo è il modo anche migliore per restituire fiducia fiducia alla politica e ricostruire anche quel rapporto che si è spezzato tra i cittadini alla politica e i cittadini ai partiti quindi più potere di scelta alla gente perfetto grazie davvero onorevole è stato bene? grazie a voi benissimo devo dire è stata veloce anche interessante e poi serve soprattutto capacità di ascolto io ho sentito tutti questa sera anche le critiche e un buon politico deve ascoltare fare tesoro anche delle critiche grazie grazie a tutti voi a casa soprattutto e noi ci vediamo la settimana prossima sempre con App buonasera grazie a tutti